che marzo sei? eh ma lì c'è scritto e ti facciano le tasse dai entri da lì si entri da qua guarda che c'è il limite dentro il sasso ah da qua ti fa passare bravo piano bravo risalti su dal legnetto dietro il tronchetto è diventato una bisce è diventato la domenica pomeriggio vieni qua ma che hai fatto uscire di lì? la domenica pomeriggio è qua eh la domenica pomeriggio vieni qua fai la zona amore lascialo stare faccangere oh devo fare il tronchetto sasso eh oh devi fare il tronchetto sasso meno male che c'è guarda siccome è garganella che venti volte la c'è guardata guardato guarda stai guardando che cosa? stai guardare stai guarda è lui di là eh! è di lì davvero! qua ho fatto 5 perchè è passato di là cosa c'è? ho sbagliato strada guardalo! 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 guarda dove scende, dove va! no di là! dai! oh ma avete già fatto fare 20 chilometri eh! giupiano! di qua! di qua! di qua! ti segno il casco con la riga blu adesso! ma il seguitore si deve aiutare! eh si ho capito ma va in fondo! si lascia giù la cosa come i muratori adesso! guarda il pietro! ma guarda! falla a piedi! ma guarda il pietro! falla a piedi una volta! guarda il pietro! falla a piedi! se no non ce la ricordi! oh oh! guarda! guarda! guarda a piedi! dietro! vabbè! lo ha reso difficile! allora è un 128 è certo che è più difficile qua tronchetto salita dritto la no dritto la è uscita mezz'ora che siete lì a fare le seghe mezz'ora che siete lì a fare le seghe mezz'ora segui lui seguito ecco così non sbagli seguilo 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 rapido però perché lui va è perdono che siete ancora siete ancora qui guardiamo anche questo guardia non so che verso è la grande dai di lì dritto la dritto dritto guarda che ce l'hai dietro ti conviene andare veloce dopo dieci volte ce l'ha fatta dopo dieci volte si è a zero va bene buttalo nel fiume va fa un piacere facciamo parla al contrario no falla 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 facciamo parla a questa al contrario al contrario si che vai su ho visto lasciala sempre andare ce l'hai sempre dietro è un tuo problema è un tuo problema grosso è caduto basta vai dai dai se l'hai fatta bombata al contrario al contrario sergio contrario